cari amici di Gohan, ora Gohan si mangerà la mila, guardate che bello, questa è una mila giolla, aspetta Gohan, aspetta, vieni qua, vieni, aspetta, ora prendiamo il cortello in questo punto, tagliamo una bella pittina, ecco qua, sembra un cuore, poi la tagliamo bene bene, togliamo la boccia, queste sono le mie che vedo io in negozio, vieni qua Gohan, ok, bravo, piano piano, come gli piace la mila Gohan, questa è una mila Gold, ecco qua, tieni Gohan, vieni, alzati, avvicinati, avvicinati, sì, ecco qua, mmm, buonissimo la mila, prendiamo questi due pezzetti, uno e due, togliamo la parte più dura, dove ci sono i semini, questa è la buccia che ho tolto, guardate, sembro dei bocchi, questa è una mela a stick, con la buccia, questa, vieni qua, vieni, alzati, sì, bravo, vieni, 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 tieni, tieni quest'altro, vieni, bravissimo, ok, ciao ciao, dal vostro caro amico Gohan e dal vostro caro amico Giacomo al prossimo video